ho fatto shopping pure al coin e ho trovato cose molto interessanti la koan, ho preso questi forse magari non riuscite a vederli però sono sfumati la parte qui è rosa e poi diventa fucsia più scuro sono molto belli questi sono costati un pochino 14,90 però diciamo sono gli unici sfumati che ho e mi piacciono veramente molto poi volendo come colore possono andare bene anche con questa questa è della Revival London è una collana corta 16,99 sempre della Revival sempre corta è questa veramente molto bella finto pizzo è una collana corta